Impara l'arte e mettila da parte, ben ritrovati. Oggi vi voglio parlare di amore e di distanza. C'era una volta nel 1441 un giovane marchese che abitava a Ferrara. Si era perdutamente innamorato di una fanciulla e lei però abitava distante e quindi lui a un certo punto si era voluto far fare un bel ritratto per poterglielo inviare. E il nostro marchese che si chiamava Lionello d'Esse era talmente tanto ricco che alla sua corte aveva addirittura chiamato due pittori, i migliori che c'erano sul mercato, Pisanello e Gentile Bellini e tra di loro aveva fatto fare una vera e propria gara di pittura. Il quadro che questa gara l'ha vinto è stato mandato all'amata il quadro che ha perso è finito in casa sua. Pensate un po' l'ironia della sorte. Il quadro che ha vinto è sparito chissà dove. Il quadro invece che ha perso questa gara lo possiamo vedere ancora tutti perché è conservato all'Accademia Carrara di Bergamo. Consolante vero? Eccolo qua. Lionello d'Esse voleva mostrarsi alla moda e quindi indossa uno splendido abito di broccato addirittura tutto abbellito dalle perle e soprattutto ha questa strana e buffa acconciatura. Si chiamava Ascotella perché era come se avessero preso una scodella e avessero messa sulla testa del nostro leonello tutto quello che avanzava fuori veniva completamente rasato e questo dettaglio della moda era tipico dei ragazzi ma anche delle fanciulle. Pensate un po' che cosa strana. Il quadro parla d'amore e ce lo dicono in particolar modo le rose che ci sono dietro di lui. In particolar modo c'è un bocciolino piccolino e bellissimo che è emerso proprio dall'ultimo restauro che è stato fatto dal quadro. C'è però un altro simbolo che parla d'amore questo nodo. Avete presente quando vi stringete troppo forti i lacci delle scarpe e non riuscite più a slacciarli e serve l'aiuto di qualcuno? Il nodo proprio per questa caratteristica era simbolo d'amore. Insomma il nostro leonello d'este quella giovane fanciulla se la voleva sposare con lei voleva creare un legame indissolubile proprio come il nodo delle scarpe che non si disfa più. Si è fatto dipingere di profilo e non è un caso perché gli imperatori romani che erano vissuti un sacco di tempo prima di lui quando vincevano le battaglie si facevano rappresentare sulle medaglie proprio di profilo e in questo modo leonello voleva dire alla sua amata che lui era un uomo valoroso. Insomma un quadro davvero pieno di meraviglie. Chissà se il nostro leonello avrà fatto colpo alla sua giovane amata lo lascio dire a voi. Impara l'arte e mettila da parte.